E' appena partita la tappa da Casteldisangro direzione Campofelice, vi diciamo subito che dopo una lunga riunione con la direzione del Giro d'Italia è stato confermato il traguardo sullo sterrato, ma qualora le condizioni meteo dovessero essere avverse potrebbe essere cancellato il tratto finale. Naturalmente si deciderà strada facendo. Andiamo a ascoltare allora il primo cittadino di Casteldisangro, Angelo Caruso, il corridore abruzzese Dario Cataldo e uno dei favoriti di oggi, Damiano Caruso. Ci abbiamo lavorato bene, c'è stata una coesione sociale straordinaria, una partecipazione unanime dai cittadini ai commercianti a tutto il modello organizzativo della nostra città che è tornato a quella condizione ideale, quella della libertà, quella della ripartenza. Questa tappa ovviamente per noi è una grossa scommessa, è un messaggio ovviamente di fiducia a tutto il sistema. Ma la cancellazione in sé mi sembra un po' esagerato, al massimo prendere i tempi in fondo se magari la pioggia lo renderà impraticabile o comunque potrebbe falsare un po' la classifica, però comunque io credo che l'arrivo di tappa si potrebbe comunque provare a disputare. Però non so, loro sono lì sul posto, io non sono andato a vederlo personalmente quindi non sono in grado di giudicare. È una di quelle tappe chiave del giro, sin dalle prime battute ci sarà una grande battaglia per la fuga e sarà importante anche per lo sfolgimento della corsa stessa. Ti chiedo solo un commento su questo arrivo, potrebbe già incidere sulla generale? Dipende da come la gara verrà affrontata, se ci daremo battaglia sin dall'inizio e durante la corsa sicuramente quel finale può fare la differenza.